Grande gioia per il rientro a scuola. Un arcobaleno ha accolto gli studenti dell'Istituto Falcone Scauda. Questa comunità ha voluto fare di un momento difficile la propria sfida. Con queste parole alle telecamere di TV City, la dirigente scolastica Maria Iosea Abilitato ha espresso le sue emozioni non dimenticando i mesi difficili del lockdown. Preside Abilitato, finalmente dopo tanti rinvii, dopo tanta attesa, si ricomincia. Quali sono state le sue sensazioni? È stata un'emozione profonda, un'emozione sincera per il rientro dei nostri giovani e accompagnati dalle loro famiglie. Abbiamo concretizzato in un momento le sensazioni, i sentimenti. Abbiamo focalizzato l'isolamento dei mesi scorsi e in un momento liberatorio ci ha accompagnato un arcobaleno, l'immagine di un arcobaleno, perché abbiamo voluto pensare al futuro, a come la nostra scuola garantisce il rientro in sicurezza dei nostri giovani. Sono stati mesi frenetici, mesi che ci hanno toccato profondamente in maniera personale, individuale, nelle nostre famiglie e anche la scuola ha vissuto momenti di scoramento, momenti di preoccupazione, ma questa comunità ha voluto fare di un momento difficile la propria sfida. Fondando sulla collaborazione di tutti, docenti, personale della scuola e delle famiglie che ci sono state vicino, siamo riusciti ad assicurare, ad organizzare una scuola scuola funzionante per tutti i giorni della settimana, per l'intero orario, fin dalla scuola dell'infanzia. Quindi scuola primaria, scuola secondaria. Che anno scolastico sarà, secondo lei? Sarà un anno complesso, ma quando ci sono difficoltà la scuola affronta le sfide e in generale, come lo è stato, ad esempio, quando siamo stati chiamati ad attivare percorsi di didattica a distanza e abbiamo raggiunto un buon livello, ma un buon livello nel senso che siamo cambiati noi, abbiamo cambiato il nostro modo di fare scuola. Io ritengo che forti di queste esperienze passate, noi oggi affrontiamo il presente, rassicurando, affrontando insieme le difficoltà che ci saranno senz'altro, ma pronti a fare squadra per realizzare quel pensato, quel progettato che fa di una scuola il vero ambiente per l'apprendimento. La scuola ha messo in atto tutte le procedure dettate dal governo e le misure di prevenzione per evitare il contagio da Covid-19. Con la collaborazione dei genitori, riflettendo, decidendo, definendo insieme, siamo riusciti a portare a scuola tutti i nostri alunni. E per me questo è una soddisfazione perché rappresenta l'operato di una comunità che io mi onoro di rappresentare, di elevato spessore professionale, culturale, ma soprattutto umano. Infine un augurio a tutti i ragazzi che cominciano la scuola. Ragazzi, voi siete più bravi di noi. Lo avete dimostrato durante il periodo più difficile. Rimanere a casa non davvero per voi è stato un sacrificio. Continuate così. Continuate così perché solo insieme possiamo vincere. Possiamo vincere l'incubo, possiamo vincere l'intruso che ci pervade. E seguendo la linea del nostro progetto di quest'anno, l'area da cui noi partiamo e a cui è fondamentale per la nostra vita, quell'area che in molti casi trasporta il virus, trasmette il virus. Ecco, ritorniamo a respirare quell'area in maniera profonda, in maniera vera, in modo da realizzare davvero le nostre personalità. Auguri a tutti, a tutti i giovani di Tore del Greco, a tutti i giovani del mondo. Grazie a tutti.